Il Signore ci ha salvato dai nemici nel passaggio del Mar Rosso. L'acqua che ha travolto gli egiziani, come a noi la salvezza, se conoscessi il dono di mio e che colui che ti chiede da bere, lo pregheresti tu stesso di farvi, quell'acqua viva che ti salverà. Eravamo costrati nel deserto, consumati alla sede, quando fu percossa la doccia, già fin l'ora sorgente. Se conoscessi il dono di mio e che colui che ti chiede da bere, non pregheresti tu stesso di darti, quell'acqua viva che ti salverà.